abbiamo trovato le tattuare coffee night nei lato di falla long beach il loro tattuato abbiamo trovato una scuola con il loro con il caffè, con la pancchia e poi ci sono un pollo di farina che ci sono fatti e ci sono e ci sono un pollo di Samoa e ci sono un pollo e ci sono un pollo e ci sono un pollo che ci sono Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e www.mesmerism.info 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 e ha detto in Aina. È una muciola prima che non ha fatto mai e fa ingolfi il nallangona in Malia non riguarda una volta perché sono riusciti. Ma non è una cosa, ma non è un problema, ma non è una cosa, io ho capito, e ho messo la tua e inizio a dirvi che l'abba di farlo ma tua e cosa fatta l'apfai ma tua ma tua e ossettura gli ubrini ma faufata uia i affafto gli ualentieri ecco il malottiere spettaccio Ma non è l'opposto che i dati o non lo ha detto? ma non altro ci parlerà, diciamo, così si muovono perché tornare un uomo. Cosse hanno contento 3 이� Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Alla 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 Al Tut Alla 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 excuse me io per quanto fa? tu ria ulla va? io e sa sin mai le è da stanga te te obliosa o so sguhani ilo no langa fai fai a waao ieri a fai 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 fo ieri l'angae elem fring o so sguhani a tu iate o e mamà o li mette la la e pota o fai tu ang tu angai kops tu angai kopsi i lei si venga langa mua mua mai vai ime la ele le i kopsi ai Il nostro corso il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Alla prossima. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info O così che vorrà, non ci vedo il nostro cielo Il nostro cielo è malato e ciò che ci sono mai E il nostro cielo è non ha fatto Quindi c'è quello che si accadeva Gesù il cielo è il cielo Il cielo cielo, il cielo 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 Il cielo 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 Il cielo 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 ma l'olofasili lea o le tummuleo mea il tanga taola lewea i matau lo matau loto e un uomawai no matau malosi matau te pupulahai ma iloa l'esesenga o le mena matau iai ma le mele ua matau iai iloa ele leanga iloa fa ino ino ai matau matau te ino ino si aile mea tuai a lo fangia il mea fou il mea foua yei le ta iallalawa fiongai fa su asoma e asu teita si tupu ai lo matau iloa o leilofo i lea o lo fattupu i nai lo matau tanga ta lilo i tu tonu wa fattu a lo matua fattu a lo fo i nga ngaloloto langa vaai ma ilo le le yei oe ke riso iole alalea ma le ma le awala lo matau manuia fa awawa o e ngai yoi na ia pa ia i matau o wae pa ia la uafio ia faya la ufina ngalo le meo lo matau wola ngalo lue mananofo ai e pe ia ana fai le mea e alala ai e neila fiafi wa ufafiro ae le mamalo tangata lo ulfana mai mai moe le ne iwha asoa tamai le wha ungalo wanganga pa ia neilungalau o au na ve ia uma me whaingarwenga e ta ua ngai e nai ufoya fiafi ne ia umasei tula ia uaise fapopongo melele i moro lato sa ili atu iate oi iamangalo i maatau le toto o Jesu ke riso e pe ana maatau whaamangalo atu ie wanga le anga mai ate i maatau iamama mea umale le mana o uau nisi foki o maatau tangata alo o mana o mia le tatalo ana o nisi o loanga iatu i ta otonga matonga fitingo retino ngase ngase mal soifu malo loina tamai le mana lo uswafa Jesu maatau te tuina atu ilato ie wau se ia lo fangia lo lato au ni pupole a ieilou file mu iloto tele malfak malo si au mayate oe ia e soronga mani aine uma yaman vialale lolo autangata mani ufoya ngalunga neil uswafa Jesu amene amene yasei a eifu al kofi vaya solente atu neina afapea olo yase fa fenum ya imaile amtang al tu si se yo may fa yung an ta pu fa il le le tu a o il le le la fono ma le fa tu a po la fa la fa la fa 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 la la fa la fe yase se mele o manino de le ya oute tel tono al la wa waman a yale le a de kori po le fa de ta inga le anga mele apos solo pono 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 ffine ye to lua sa a è stata un'altra parte della Sara e People's referral della Io e tre non avverandamenti, ma è un'altra parte della mia non è molto misura, non è il cabello di assurda se non è un uomo di assurda, non è il cabello di assurda e non è ancora un'altra parte che ha visto che è un'altra parte non è emozionato che devo amare come sarah che avevano riconosco e come detto, avevano Roberto e avevano i figli che avevano fatto che avete fatto l'amico che avevano l'amico non sopra non sopra non sopra non sopra non sopra non sopra Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti! si è accanto l'anima che doveva rappresentare il Dio il padre posto di capito E il padre posto l'anima che loro vengono, si sono aiutati o mi sono a riusciti o l'外ale della grey e la palla del dente per l'israël ma poi la palla ma all'inamai non hango paia il tangato nu esse e fa sa olotto il tangato nu esse Tu fa tasidolta ma saha nofo il allo il tangato nu a fono ma le tamasa fa pa pau la fa tua tua iakkeriso, lea la fa medottus paia fa a pei fa tua tua apra amo o lea na ama tamai ile fa tua tua il forfolanga lea tua fa pena fa tua tua tamaitia ile forfolanga lea ma leu fa taunu inakkeriso Fa pei ona tauia elea tua Apro ammolona fa tua tua Ile forforanga Ta uame otonu inai Oye ta uole a tari o lea tua Fa pe na foina ta uame otonu inai O tamaitie e tolua Ilo la fa tua tua Lava lea ilè ilè ilyo ilyesukeriso O lea fa tua tua il forforanga A ua fa tua tua ilè fa ti nono il forforanga Nga levo ti ngol forforanga Lea lawa avea il fò ila ua Ma fa nawa lea tua o suli Fattaci ma che riso. E l'ho amato l'armelna. Ant'opula è lì ma... E l'ho te vato il lavoro al teimila uffanati nati e... Ma ora sei se l'è... E l'ho amato si l'è aluà e fa fonga mai lasso fai tawattu fai mua mua. Olè neina fa sa oto ma i che riso e a etatou e a etatou ma ora sa oltonga. Olè a iatou mau autou ma auane e toetatou mia autou le amo Olè polonga. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Uplaleu amai el apostolo e le calesie kratia kratia e sa oto ngaleu fai ele li rona fina ngalo e sa olo toong e toetatou mia l'ho amai el polonga l'ho amai el polonga l'ho amai el se l'anxala fa paupau l'ho amai el teile e l'ho amai el teile l'ho amai el polonga l'ho amai el fina ngalo le atua i a fa sa olo toinga l'ho amai el teile l'ho amai el teile l'ho amai el teile l'ho amai el teile sa olo tonga e wha mamuru porong a oto e tawhia le le porong ai te mawhati ai e ti ngai ne o le mea nganga mawha e ng sa o keriso l'ho amai el teile fa sa olo toga i ni o le mea nganga l'ho amai l'ho amai mawha tang amai l'ho amai l'ho amai el teile l'ho amai el teile l'ho amai el teile sile fuono u o lang ee naquo el teile l'ho amai el teile l'ho amai el apostolo paulo fa e kitaus tula a fondo mahu polonga hi a oi Fai fai o l'hai te fa Paupau ? Ma ma ho il polo nga ya ? Fai lo Saol Tonga ? E'o l'hai ma ma ho a Lo Saol Tonga E'nei Amerikai ? E'kere ma ho a se a Tonnu'u l'alangine Pio Amerikai ? E'nei saol Tonga ? La Saol Tonga l'ai l'alol fa' vai Le Saol Tonga ? E'e fa' a la rongia, poi puia, ma ta'u si a la ua ya tatau E'e fa'y ei la u fil fil in a saoloto ? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ma poi lua, fauta mai è, oa paulo a te faiatui a te otou, a fai e peritomeina otou elea o ngā lava ke riso e a te otou, on melalea leu amata ngā vāla mani. Alimele lema na oai, i tangata i utai e fai, i tangata, nuk esela e tono, e kālesi e kalatia. E manga oi ave peritome, mungu ngai tangata i ele peritomeina, pia lau filistia, ira taimigako ke pisa e a filistia. Aro saol mea, ole lau lang ia toa, ele ongi isa rae, ele peritomeina umma, yon, 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 si ngāmo. Olea lae fi naumum ka umu faiya oa o seya i utai e lau ngai, nai tangata iyonu esi ave peritome. Maa fua langa leu peritome, langa leu peritome, ole fa eilonga leu loai, ole fa eilonga leu oe, ole ta ngata amyotono, ole, ili va ailea leu sa rae, fa eilonga leu ole atali oa per amo, ole ta ngata amyotono, ole ta ngata, e ke tau siya tura fono iya, leu tua leu lima fai, leu sa fugu fai, leu ta ngata amyotono, ole ta ngata amyotono, e ke lea eilongi mea faiye, mea leu mamma, mea umma nga, e pe o leu maru siya nga leu mea leu, ole peritome. iya, leu na yola ngatato, iya, tu lo uw aile udautono, ole u pa eilonga leu, a te Hakate eilonga leu. Ilea olea leu, peritome umma atato, Samoa, a, pe e, ne teo oso sefisidika, pero ene leu eneitato, ako, 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 ako u sala, ole fornime, ole ta tuteo leu peitome, a lea eilonga leu pa so lo polo, a i cartia, ole ta ngata hou tau, oyei se ma faufa wealui peritome, ke peritome loa. Ah, leu guna ngatalo. E leo nga che riso iate oi Lewa e alu a oe te perito me e tu lia la oe la umano Usa leo e alu te tawiri ma e a fue Fa u la wame o tonu ma Lewa e alu su elu o wala ili a tua No ringa ngal talapò Mo leo nga la che riso iate oe langol ma a fue Angasau e che riso Ngasau che riso E fufor fa fitau lia tatou E fiu da tatou e súc e leo wala ili a tua E leo maua Fiu da tatou e tamo mok e leo tini ziz Fiu e ffe e e ffe e guama se e mai lalu E fiu da tatou e gau fika e leo e datou Fiu e fi amio le leo e oa e se holi Au mai e leo ili a tua Che riso le loussau ke su minapostolopo A fap pe o nga leo e ma fau fau gian a ye E leo nga la che riso iate oi Ia se wha wau lale A whaupo e to luma le wha Au te moli tino atu I tangata uma ua ngai Ia perito meina E noa tia autou le whaia o mea Uma lava o le tū la fono O autou wa fia maua Le takua mea tonu wina I le tū la fono Wa tete a ese lava Autou makerisu Ua pā u autou Maile alofa tū noa Ia wha fau gian a lea I te moli i le Le te leo le Fau i le tū si e ke moli i le O luma e se hala apostoloopo Maile ta u pule A longa vinga e ta hua ya Ya paulo lango le mea I le saume le li Imanisimea e te moli i mea I te moli i le Pei fo linga me ma kua I ma wau a la o o ngas se Y a kaltia I te moli atua I te i l'apostoloopo Fau i le te u cilio Ai maile a ngā paulo le te i ola I te i le I māno pō i le 碌 I le le sīlal I māle a ngālcs I māle a ngālcs I ni le a hua manino mai I māile a ngālcs I māile a ngālcs I to u mā i a I le tū le pult rivalry I lā lā tū lāfono I māi o e I taw sir o lā tū lāfono I māle a ngālcs I māle a ngālcs I taw sir o lāfono I taw sir lā tū lāfono I mālu i mea fie I re māile a ngālcs I māile a ngālcs I te i lā Il nostro canale è importante per quanto riguarda il nostro canale, per quanto riguarda il nostro canale, per quanto riguarda il nostro canale. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Noi. L'è non come le... Va bene, avevo un po' di me? E' da un po' di me? E' da un po' di me? E' da un po' di me? Il mio sono... Io mi guardavo... Mi guardavo... E' da un po' di me? E' da un po' di me? E' da un po' di me? E ci sono le persone e non sono le persone inكلanza io Su logica cosa che fa a pensare in uno Quindi我们 c'estv一个 unica Che si è un'altra cosa che doce Non lo vogliono? Cosa? Cosa? Siamo iniziando le persone che fa In questo modo, non abbiamo unico Che ci dà pensare a pensare a pensare Che dove anche le persone The only thing that counts Is faith Expressing itself Through love Love Hello 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 La famaみたいà come diventa la vita e la vita e la vita e le vita e le vita e la vita. Ma è una vita e le vita e le vita e le vita e le告訴a. Perché la fama? Fut�vii a Mbak Fara Apostolo Paulo che è tauria e mea iaccherissi, Paule maya e tauria iaccherissi e il fatto tua è e'ali mai letto non, non riusciamo se ci st Opto Le l'hoffa leo tato per l'anno le fè E' l'anno nua i fò i lea a mumuare maa O mumufo i le l'hoffa A l'anno auguri le maa I auguri fò i le l'hoffa A samasama le maa Fa penna Le l'hoffa leo 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 tato Le tato noa i leo l'hoffa E' l'anno i aimea E' l'è liuro na l'anno Le l'hoffa leo ngate au mai Seme fòu Seme amtautia Seme malosi Tato tangata Le l'hoffa la lea liali ono Lo tato fatua tua Le l'hoffa leo leo l'hoffa leo I sisi lao l'hoffa leo E' l'hoffa leo leo Sa' oto Tato fatua tua 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 Le l'hoffa E' l'hoffa Fa' fela vei E' l'hoffa E' l'hoffa Le an'anai I leo p'u monu I le tato noa mai leo i fò E' l'hoffa E' l'hoffa E' l'hoffa A l'apostolo I koi peo E' l'hoffa A i mea A l'apostolo Fole A l'haka I kaltia I pe ele I lo nga I mawa I kaltia I l'hoffa I mea Famele apostolo Fala You were running a good race I mea I nga I tato E' l'hoffa E' l'hoffa E' l'hoffa E' l'hoffa Tato Sa' o E' lhoffa E' l'hoffa E' l'hoffa E' l'hoffa E' l'hoffa E' l'hoffa Famele apostolo La Nga Ma Nga 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 Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Grazie a tutti 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 ma ho vi messa, vi messi, io le alofa che non ti prendo il uolo t… ma le alofa fette la i le alofa che le va a usso e lo usama il ciò nel suo figlio, egli stava un figlio, non aveva un figlio, non aveva un figlio, aveva un figlio e alle le, ma non si a un No solo 0,005,007,007,008,008,007,008,007,008,008,008,007,007,008? Ma lo sentiso ciò che si prova il quattro, ma lo sento c'era, ma lo sento c'era, ma lo sento c'era, un можетo caer, io le sento a te farlo, ma lo sento c'era, ma lo sento c'era, ma ho sento c'era. Agate fa e atuто, anche la sua via la mia,la, l'unica, la sua volta morta non vole. A waa o le tino ua loto e faii mea e te ena i le anganga, ua loto fo i le anganga e te te atu le tino, e feteena i fo i le lua lea, ole mea lea tou te lea whaiei mea tou te loto i ai, ai a fai e te itaina o tou ele anganga, ua leno nofo o tou i le tula fono, ce gelou la o20 la o e ole agrard mnno u e hai ta fo i y mea pe ele leaם, laga leo ua ku ma al ta teimn ai ata жизни o te fiaha wiz e ua eight cercare di un'eiliazionghi B. e l'eiliazionghi B. di essere abbastanza ma nontro a tutti così non vengono a diritto Ma non vengono quando fossero i bambini ma non vengono l'eiliazionghi B. non vengono po' che offrozよろしく ma adesso si è voluto che aveva fatto un po' di più, fatta e l'euro dell'euro di tutti. Perché aveva fatto il tempo che aveva fatto una cosa che aveva fatto, che aveva fatto un po' di più, che aveva fatto un po' di più. Nga alpauan mele potoi Tengata oleo langa il tulafono Ma leo langa i sisi mea A oleo langa i lea nganga Oh, iap, etanuele u polisto e inamato E fuamo a atua Oto fai atui a te otou E otousava varila lea nganga O ne le fai a le otou Le tino lea e fia whakmalie Le fai mai Awane a vea le sa otonga Ma mea e te whakmalie Le tino lea Lea uapavao mai Lea le fai mai i A e ma fai a otousava varila lea nganga Onga le me fai doa le O e fai longa mei oi Ah, fa fai langa Man tua oi O leo ya oilsa otonga e fai ei mea A le fai la ve lave mea iate oi Mana ongam tuina nau i olitino Lea fai la ve lave mea iate oi Ia tuina nau i olitino O le me lai Fa fai ngamaua ro maalosi A e sa ui Sa valili lea nganga Onga le me fai Lea maule ro maalosi Da to teola el verso lea Lea tal no mea i alua maalosi Anga e tonui aate oi O le maalosi anga lea nganga Maalosi anga tino O ka la po? O i e po si si programme lea Lea le sa nga oi 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 Maalosi anga e tino Lea le sa nga oi 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 Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.it oi o le tangato le anganga e le ma faufau e te ma faufau tonuai fitu una iai mea o lo o mai a me la mia foice fossoan la iai a tangata te fattuotua ina e te ave iai se fesili fossoanieto yato e fattuamam lama avat foice nato fattuamam lama lo iai te oi le potoma le ma faufau ma le anganga pa iai te fattu langa le le iai mea iai o mai a waii le soonga vesima a a sa uai alu ina ye manguia ea 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 ta va a baya foile fattuatari a foin aitangata ee sainteis la coque feia misse ea wale guacuerpan kekelea e tu e fi a lalun ea marcofe ta togo mai va a solea ea andato go le e fu e u puest fuma le ii va a fa soluang a lori tu sion ta poe lima ae na fai stato talo ea tu a tolo le oi efei seo mano longa Il giorno è passato che ci sono state delle persone senza cura, e che si fosse una porsionata, sono state di vedi di uomo umano. In Cristo si pari a loro, ma non ho una porsionata. Ma non c'è la porsione che ci sono state di rinforzooni. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info